Questo pomeriggio triangolare probante per i lupi impegnati al Memorial di Tella, a Bastogirardi contro i padroni di casa e l'Olimpia agnonese. Nel consueto appuntamento in Altissimo Molise, prima uscita in regione per la squadra di Mister Novelli. Come detto, test sicuramente da non sottovalutare. Si affronta una squadra di pari categoria, seppur in costruzione, come l'Olimpia agnonese. Il Bastogirardi, già in ritiro da 15 giorni, è pronto a lottare per la vittoria del campionato d'eccellenza. Squadra Rosso Blu che ha ripreso i lavori dopo la pausa di Ferragosto al Vita Antonio di Ripalimosani. Sedute maggiormente tattiche agli ordini di Novelli, la squadra ha lavorato dal punto di vista fisico nei due ritiri svolti precedentemente. Da definire in attesa del permesso di soggiorno la situazione dei tre ragazzi franco-senegalesi. Difensore laterale, centrocampista e attaccante esterno. Pronti a vestire la maglia del campo basso nella prossima stagione. Mancano sempre tre pedine, parliamo di due centrocampisti e un attaccante. La società si sta riservando il maggior tempo possibile per non fallire nella scelta di questi ruoli. Un mediano di qualità e un attaccante capace di realizzare un bottino importante di reti possono fare la differenza nel torneo di Serie D. Senza dubbio Novelli conta di avere a disposizione tutta la rosa o quasi prima dell'uscita di Coppa Italia prevista per domenica 28. La squadra al momento è giovane, il tecnico punta sulla brillantezza dei ragazzi ed un gioco rapido e vivace. Almeno queste le idee in partenza. Il girone F sarà come sempre un raggruppamento equilibrato dove si gioca a calcio senza dover fare i conti con il fattore ambientale, se non in qualche rara eccezione. Partire bene e avere continuità nei risultati, queste le condizioni per navigare nei mari di alta classifica. Un compito richiesto questo al campo basso targato a Liberti Novelli.